Hanno già superato il milione i pellegrini che hanno prenotato la visita per l'ostensione straordinaria della Sindone in occasione del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. Il sacrolino resterà esposto in Duomo per 67 giorni fino al 24 giugno. Molte le autorità regionali e cittadine presenti alla prima visita insieme all'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia.